Continua l'intensificazione sull'intera provincia erpina dei servizi a contrasto del lavoro sommerso da parte del comando provinciale della guardia di finanza di Avellino con interventi mirati che hanno portato alla scoperta di 14 lavoratori in nero. In particolare i militari della tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi nel corso di uno specifico servizio insieme ad ispettori del lavoro hanno proceduto a effettuare un controllo nella giornata di domenica presso un ristorante che opera in Alta Irpinia. Nell'atto dell'accesso i militari provvedevano immediatamente all'identificazione di tutti i dipendenti presenti al momento del controllo intenti a prestare la loro attività lavorativa. Venivano quindi raccolte le dichiarazioni dei lavoratori necessarie per la verifica delle rispettive posizioni contributive rispetto alla documentazione ufficialmente custodita presso la società responsabile di questa attività economica. Il titolare non era in grado di esibire alcuna documentazione che potesse provare la regolarità delle posizioni lavorative delle persone intente a prestare la loro opera. Ne è conseguito dunque la constatazione di una percentuale di irregolarità pari al 100% della forza lavoro presente con 14 lavoratori su 14 completamente in nero. Nei confronti del datore di lavoro è scattata la prevista segnalazione per l'avvio della procedura finalizzata alla sospensione dell'attività imprenditoriale. L'attività ispettiva è attualmente in corso per la quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti stimate per circa 50 mila euro. L'intervento si inquadra nel solco delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela degli interessi delle fasce deboli.